E fa un bagno anche sto GP2, va! arriviamo in ausa prima del Fernpass abbiamo fatto il Fernpass al mattino al buio con un sacco di traffico traffico però fresco il Brennero è lungo e caldo e tantissimo caldo a 30 38-39 gradi da sciogliersi per la prima notte sono male e credo che qui sono andato penso che sono andato sono andato 1200-1500 km è la mia limitazione prendere la decisione di domani sì il ragazzo di Q ha spiegato 1.5 giorni sono andato è finito è finito e ora è funziona perfettamente semplice ma dovremmo dovremmo un po' di giorni fino a che sono completamente riusciti come hai fatto? come hai fatto? come hai fatto? hai fatto? hai fatto? hai fatto? hai fatto hai fatto? hai fatto? hai fatto hai fatto hai fatto e ho chastato e ho chastato per circa 1.5 giorni per finire te sì però ho avuto di problemi oggi ho avuto ho avuto rascinare la mia ruota ma tutto i adesso non potrei te seguire abbiamo avuto il monte greco sì sì magari la giornata dopo demorano Poi prendere e fare un tom per un cammino e poi passavi per sotto la SS-47 per una via di peatons che ti ha una rampa e allora ti donavi la carretera che ti porta qui. E ho stia, ho portato allà e non l'ho ho enganxato. Sono sempre 3.50. Due ragazzi hanno pensato che mi sono riusciti e non mi sono riusciti. but then they thought looks also sorted no he's a foot he's fine